Musica Quando l'amore viene il campanello suonerà, quando l'amore viene il campanello suonerà Buona domenica, la barca, la barca, la barca, la barca, senza parole, siamo senza parole Franco, barca, la barca, finché la barca va, perché la barca, chi è sto barca, che è sta storia di barca? Barca, noi conoscevamo un altro barca, tu lo ricordi? Eh come no, professore barca, molto molto bravo, poi siamo inciampati, siamo inciampati In un altro barca, Salvatore Barca, che è la persona che il ministro dello sviluppo economico e del lavoro Di Maio ha scelto come segretario generale del Mise Noi non conosciamo il dottor Salvatore Barca L'abbiamo conosciuto attraverso una lettera che ha inviato all'ex commissaria d'acta, ormai molto ex perché sono già due mesi che il dottor Filippo D'Ambrosio non è più commissaria d'acta Il segretario generale barca, che deve saperla molto lunga per la verità, no? Dopo che ormai era già stato tutto chiarito, dopo che abbiamo dimostrato che il, come si chiama? Il sottosegretario Carlo Sibilia Con che delega? Carlo senza delega E' un bugiardo, almeno bugiardo al quadrato per quanto riguarda la Lioni Grotta Minarda per le cose che ha detto Anzi Marco fammi dire una cosa, tu scosta di un attimo No, è perché io devo stare sempre a fianco a Franco Scosta di un attimo Egregio sottosegretario Carlo Sibilia Lei è un bugiardo Ha capito che cos'è? Lei è un bugiardo E poiché io, noi, siamo in grado di dimostrarlo in tribunale Lei ci deve fare alla cortesia una, una sola, bastano soltanto a me Mi quereli, per cortesia mi deve querelare Perché io in tribunale verrò a dimostrarle Dicevano i latini Per alligata et probata Che lei è un bugiardo E i bugiardi in politica non ci devono stare tanto più Se sono le stesse persone che parlano di onestà La bugia è disonestà mentale La bugia è disonestà E' la sublimazione E' la sublimazione della disonestà intellettuale Quindi lei è un bugiardo Adesso che gliel'ho detto e ripetuto Mi vada a querelare Anche perché io le ho citato un fatto circostanziato Che dimostrerò in tribunale Ci ho detto Già l'abbiamo dimostrato L'abbiamo già dimostrato Ma andiamo anche in tribunale Perché così ci piace il tribunale Allora il dottore Salvatore Barca, segretario generale Non pago, no? Di tutte le dimostrazioni che hanno già avuto Le prove che abbiamo pubblicato Eccetera eccetera Scrive una lettera Una lettera All'ex commissaria d'acta della Lioni Grotta Minarda Per chiedere documentazioni e chiarimenti Marco Si dà il caso che questa lettera Sia stata scritta il 19 febbraio Cioè Marco Ben Attenzione Ascolta Ben Dice no 12 giorni dopo 12 giorni dopo Che Mentre Carlo Sibilia Continuava a dire La grande bugia Altri parlamentari 5 stelle Nella fattispecie Il senatore Ugo Grassi Il 7 di febbraio 15 12 giorni prima Della lettera di Barca Aveva Bello Dichiarato Con un comunicato Del Ministero Oltretutto Un comunicato di Toninelli Che Alla luce delle cose Viste e lette Cioè della relazione Finale Che il dottore Barca Ancora sta a chiedere Eh? Certo La strada Sarebbe stata completata Non ci sarebbe stato stop ai lavori Questo è il fatto Marco Questo è il fatto inoppugnabile Ora Il dottore Barca Scrive ancora al commissario Il 19 di febbraio Per avere documentazioni e chiarimenti Quali sono I chiarimenti e le documentazioni che vuole? Esattamente le cose consegnate dal commissario Nella relazione finale Del 31 dicembre 2018 Hai capito? Tu dici Ma allora perché lo fanno? Marco Lo fanno per una semplicissima ragione Per pararsi il culo Poiché devono rispondere questi signori Dei danni erariali che stanno provocando Vogliono precostituirsi l'alibi Dimenticando che la relazione sta già là Il Parlamento è un atto che non si può modificare C'è già là Capito Marco il concetto? Ecco Tutto qua Poi Dottore Barca Io dico una cosa Una lettera ufficiale come quella che lei ha fatto pubblicare Pubblicare dai giornali, dai siti Poi è soltanto una coincidenza che uno di questi siti, uno di questi giornali online Sia anche il giornale il cui editore è l'onorevole Michele Gubitosa Quindi è soltanto un caso, no? E passi pure Però un atto ufficiale del Ministero dello Sviluppo Un atto ufficiale in cui Marco si scrive Attenzione Perché questo dà la misura di quanto questi signori non sanno di che cosa parlano Questi parlano a bandera Un atto ufficiale in cui tra le altre cose gli altri chiarimenti eccetera Scrive, firmato da Barca Si chiede in vine di voler anticipare Questo al commissario In termini di massima urgenza La resa degli elementi richiesti bla 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 Per l'intervento strada scorrimento veloce di Oniglotta Minarda Al fine di non pregiudicare il decorso dei lavori Avendo cura proprio per tale intervento Di specificare anche le pendenze e i condensiosi Con i soggetti esecutori coinfra e infrav Signore si dà il caso che coinfra non esiste Cioè coinfra non è un soggetto esecutore della strada Non so nemmeno se esiste come consorzio Ma coinfra non esiste Tutto questo in un documento ufficiale Del ministero dello sviluppo economico Dobbiamo aggiungere altro? Stiamo davvero senza parole Senza parole E poi Marcone dobbiamo un attimo soltanto Così poi ce la togliamo di mezzo questa frasca Ci ha proprio annoiato questa storia Il 19 di febbraio abbiamo detto Barca Questo Barca scrive al commissario Il 20 febbraio Attenzione alle date Il commissario ha ricevuto Questo invito a fare i chiarimenti E che cosa avrà pensato il commissario quando ha ricevuto Il commissario avrà pensato Questi qua sono proprio fuori Sono fuori dalla grazia di Dio Perché il commissario ha risposto Il giorno dopo Cioè il giorno 20 Non ha dovuto lavorarci sopra Non ha dovuto pensarci più di altro Ma sai perché Marco? Perché ci aveva mandato Perché ha scritto Egregi signori Ve l'abbiamo già mandate queste cose Le volete di nuovo? Allora caro commissario Ex commissario ad accata Filippo D'Ambrosio Lei farebbe bene Farebbe benissimo Eh? Ad andare alla riunione Al tavolo che hanno convocato Marco ma per una semplice ragione Perché a questi signori Le cose che ce le metti Non riescono a capirle Allora c'è bisogno Che il commissario Ex commissario Filippo D'Ambrosio Al tavolo del Mise E le metti in bocca Col cucchiaino Spiegare Ricco per ricco Le cose che questi signori Non riescono a capire Cazzo Capito? Ma no una domanda Voglio fare una domanda Eh ma basta Smettetela Marco il problema è che abbiamo Un sindacato del cazzo In questa provincia E anche una convindustria del cazzo Perché diversamente Anziché fare i chiacchiere Starebbero sotto il ministero Dello sviluppo economico A chiedere conto Non si fa Che cazzo ci fate come sindacato Cosa? Ok E come convindustria Cosa? Stivete le letterine? Ma per favore Come ne vado Non posso A parte che il caffè si fa freddo Io mi sono scocciato Ogni domenica Ti devo portare il caffè Dalla città ospedaliera Lo tengo in caldo E tu lo fai raffreddare Mi da fastidio questo caffè Dopo lo bello Oro Mario Anche perché mandammo sempre a Mario Dopo che abbiamo dimostrato Per l'ennesima volta Perché abbiamo Abbiamo con te Che purtroppo Abbiamo a che fare Purtroppo Ma lo leggo io Leggo io Le bugie hanno le gambe corte Chi è? Chi è l'autore? Carlo Sibili Il quale risponde Alla controprove Della prova Ecc 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 Con Codesto Magistrale Pezzo Ha diciamo Sbugiardato per la seconda volta Documentato Il sottosegretario Senza delega Che io poi volesse capire Franco Ma io non ho mai sentito Di un sottosegretario senza delega Dov'è mai sentito di un sottosegretario senza delega Ci stanno Ci stanno Perché Quando un ministro non vuole dare la delega Fa un sottosegretario senza delega E perché UFA? Ma perché Perché i sottosegretari Ma meno male che non c'è la delega Ti prego Ditto questo Carlo Sibili Così scrive Dopo la controprova della prova Ancora Ancora Anche perché evidentemente Questo qua si serve di addetti stampa Collaboratori Che non capiscono un cazzo più di lui Questa è la verità caro Marco Le bugie Diciamolo Diciamolo Aspetta 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 E anche qui Per alligata E' ignorante totale E' ignorante per settori Anche qua per alligata Ed è probato In tribunale Perché ci siamo rotti i coglioni davvero Ok Poi Poi Avanti Magari di qualche salumiere finanziato Soccanzi l'oro Non so cose che ci riguardano Cerchiamo di lavorare sempre nell'interesse dei cittadini Se lo facciamo da comunità unita possiamo ottenere buoni risultati Poi si antepongono interessi personali a quelli collettivi Saranno i cittadini ad avere sempre la peggia Ora Marco Poiché il sottosegretario Sibilia Non c'è cosa che dice Senza metterci gli interessi personali Egregio procuratore della Repubblica Qua ci sta Notizia Criminis Allora la vogliamo aprire una caspita di inchiesta Per sapere Quali sono Dal signor sottosegretario Quali sono gli interessi e di chi sono Ce l'hai il coraggio di dirlo Sì o no il sottosegretario Procuratore se lo vuole chiamare il ragazzo E chiedergli Nei professore ci vuoi spiegare gli interessi di chi sono Sì però posso intervenire Posso intervenire Posso intervenire Io ho una domanda da porre Perché Vedi Franci Mi fai tre la pressione Vada per il sottosegretario Sibilia Sul quale Già ci siamo pronunciati Abbondantemente Vada pure per L'onorevole Maraia Che Diciamo È il seguace proprio No nel senso che Come dire È la fotocopia di Carlo Sibilia Almeno per le argomentazioni Peccato che Essendo persona di cultura Quindi devo ritenere Che sia in malattia Ma la mia domanda è Ma gli altri Gli altri deputati del Movimento 5 Gli altri Do stanno Do stanno Cioè voglio dire Il professore Ugo Grassi Maria Pallini Ma lo stesso Michele Cubitoso Che può avere tanti difetti Ma che sicuramente non è una persona Come dire che Almeno per il mestiere che fa Per quello che ha fatto Ma insomma Che volete fare Cioè voi volete Continuare a lasciare questo signore Capito Ma fai danni Però Marco perdonami Perché poi alla fine Non è pensabile Che la colpa e la responsabilità Di questi disastri Cada soltanto sul sottosegretario Cada soltanto sull'onorevole Marai Cadrà evidentemente Su tutti voi Perché non avete detto una parola Non avrete detto una parola Non avrete mosso un dito Cioè A quanto meno io vorrei Capiamo il disagio Vorrei dire questo Ma non si può tollerare questa roba qui Perché come ha detto Franco prima Ma al di là delle cose Eh Di Marco Staglia Nordica Lab Franco Gensale Qui stiamo parlando Di centinaia di posti di lavoro Che sono andati a farsi fottere Esatto Di centinaia di milioni Di danno erariale Determinati da un sottosegretario Che non sapeva nemmeno La differenza Tra commissario straordinario E commissario ad acta Stiamo parlando Di analfabetismo istituzionale Conclamato Scudorato Non si sopporta questa roba Professore Grassi Non si sopporta questa cazzo di roba Ho detto bene Allora Aspetta Fammi aggiungere Fammi aggiungere Pallini Perché ridi? Perché lo dici che mi fai ridere Come hai detto? No io dico Pallini Onorevole Pallini Onorevole Pallini Abbia pazienza Abbia pazienza Ma una parola Mezza parola Un afflato Lo possiamo sentire? Sì o no? Oppure per solidarietà di partito Di comunanza politica Di parlamentarismo del cavolo Se ne sta zitta anche lei Che pure insomma Era sembrato che un po' di coraggio Lo avessi una ragazza No? Onorevole Pallini Poi dobbiamo anche di sta roba Il problema è molto semplice Noi non vogliamo Non vogliamo La difesa No No Semplicemente Vi chiediamo A lei Pallini A lei onorevole Grassi Un po' meno A Michele Gumbitosa Perché abbi pazienza Marco abbi pazienza Pure tu Ma se l'onorevole Gumbitosa Che è il proprietario Di questa testata Fa pubblicare Su questa testata Ecco le prove Cioè Praticamente Una nuova boiata Una nuova stronzata Quindi Altro che prova Una nuova figura di merda E cazzo Marco E vuol dire Forse non lo sapeva Forse l'hanno fatta A sua insaputa Ma no 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 L'hanno fatta a sua insaputa? Eh? La redazione l'ha pubblicata A sua insaputa? Eh? Ma di che parliamo? Ma di che parliamo? E poi Onorevole Come si chiama? Senatore Ugo Grassi Ma non sono i deputati Attenzione Anche Tiziana Guidi Fermatevi Cioè Tiziana Guidi Che è stata candidata Sindaco di Avellino E rappresenta in qualche misura La base Quella genuina Eba 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 Ma noi comprendiamo No ma perché Questo va detto Questa è la cosa assurda Il movimento ad Avellino In Irpine E' profondamente spaccato Perché per un verso ci sta Carlo Sibira Per altro verso Anche lo stesso professore Grassi Gli altri riferimenti La stessa Pallini Come hai detto tu Già si muovono E soffrono no? Questo atteggiamento Poi in città E' capitato che c'è stata proprio La divaricazione definitiva Completa Tra appunto Degli storici militanti E i vertici Esatto Penso Ma mi rendete conto Non tutto Dovete dismettere questa prudenza Questa Come dire La logica per la quale Fino a un certo punto Le cose si possono dire sottovoce E lontano da ogni tattino Poi però Bisogna comunque dare sempre l'impressione Di essere tutti d'accordo Non si può essere d'accordo Su questa roba Non si può E' vero che c'è questo poi A prescindere dalle come dire Dai toni Dalle ironiche E' veramente un qualcosa che non c'è Noi ci dobbiamo ridere Perché non abbiamo più parole Non riesco manco ad essere più ironico Io sto incazzato come cittadino Ma non perché noi abbiamo fatto Stabattà abbiamo portato a galla Le stronzate Non è quello il punto Il problema è Questo che chiediamo al senatore Ugo Grassi A Michele Cubitosa All'onorevole Michele Cubitosa All'onorevole Maria Pallini Fate smettere A questi signori Di dire stronzate Marco la vogliamo dire tutta Anche perché Non so come farvelo capire A noi il Movimento 5 Stelle Non è che sta proprio tutto antipatico C'è stato simpatico C'è stato molto simpatico Però ci fate cadere le braccia Capito Marco? Non riusciamo a guardare dall'altra parte Perché da un'altra parte Troviamo le facce del PD Che sono peggiori delle vostre Non ce la facciamo proprio Dateci una mano Ma per darci una mano Dovete cortesemente Fermare la barbarie Di questo sottosegretario Che è bugiardo E mi deve trascinare in tribunale Cazzo Eh? Altrimenti mi vada ad autodenunciare Questa storia deve finire Queste menzogne da quattro anni Queste bambinate Dovete smetterle Non potete prendere per il culo Gli Avellinesi e gli Irpini Non potete consentirvi Di continuare a dire bugie impunemente Non potete farlo Mario quanto manca? 5 minuti 5 minuti 10 minuti 10 minuti 15 minuti 10 minuti Allora Francone La Novo Legno Basta con questi qua La Novo Legno Perché è importante Poi qualche passaggio sulla città La Novo Legno Insomma è una notizia che ha scosso tutti evidentemente Pare che le argomentazioni portate a sostegno insomma di questa decisione Sulla quale non ci pare non ci sia nemmeno la disponibilità a ragionare da parte della proprietà Siano tutte da ricercare nella insostenibilità ormai Insomma di quella produzione Nel fatto che insomma c'è una perdita strutturale che si rinnova di anno in anno E quindi insomma dal loro punto di vista non ci possono proprio essere le condizioni Per immaginare una via diversa dalla chiusura immediata dello stabilimento C'è chi sostiene in realtà che invece questa è soltanto come dire una scusa Perché le motivazioni vere che avrebbero indotto Fantoni Insomma a questa scelta sono diverse Hanno anche molto a che fare con gli investimenti che si sarebbero dovuti fare all'interno dello stabilimento Eccetera Ma al di là di tutto tu che cosa ne pensi E soprattutto se vedi degli spiragli Spiragli che io onestamente non vedo Tu vedi spiragli rispetto a questo Marco allora noi dobbiamo dire un paio di cose No? La prima Ci sta una cosa di assolutiva Metteci il ditino sopra E la sveglia E la sveglia E la sveglia E la sveglia Grazie Marco Prego Allora Marco allora l'argomento è veramente molto molto serio Io dico una cosa Fantoni non è un industriale che ha preso i contributi dello Stato per cui è venuto qua ha preso i contributi se ne scappa eccetera eccetera E qui in Irpina da tantissimi anni ci sono state molte contestazioni negli anni sul problema della ipotesi di inquinamento eccetera eccetera Quindi per un fatto ambientale ma questo è un altro argomento andrebbe affrontato magari in altra sede il problema è secondo me se si tratta di una crisi di mercato i lavoratori hanno sacrosantissime ragioni a dire ci sentiamo traditi perché dopo tanti anni che siamo stati ed è vero sono state delle maestranze un grande esempio di produttività no? Però adesso ci lasciate così no? Con le bacche nell'acqua cioè ci buttate sull'astrico sono ragioni comprensibilissime si tratta di 117 famiglie Marco attenzione eh 117 famiglie eh in questa Irpina dove già la disoccupazione ha raggiunto i livelli che ha raggiunto quindi è un dramma enorme Il problema però non però per metterci i sì e i ma non è per questo il problema però è che se la crisi è insostenibile la crisi di Fantoni della Nuovo Legna è insostenibile perché è una crisi di mercato Manco si può mettere la pistola alla tempia a questo signore che sta perdendo da quello che ci risulta già parecchio da parecchio tempo non è che si può pretendere continua a perdere per forza ecco va discusso con molta con molta calma con molta serietà su questo e qui il sindacato ha un ruolo importante Marco il sindacato ha un ruolo importante per sono passi che già ha mosso per la verità per tentare insieme alla prefettura Per tentare questo tavolo si chiama così il tavolo romano con il ministero del lavoro dello sviluppo economico ahimè andiamo a sbattere ancora contro Di Maio ma per tentare una soluzione possibile se c'è una soluzione possibile io non vedo molto altro se la crisi per le notizie che ci hanno dato eh se la crisi della Nuovo Legno è crisi di mercato la vedo molto molto difficile che non si può imporre ad uno di di produrre una cosa che non ha più mercato eh questo eh ma una soluzione bisogna trovare io non so quale ma questo forse Franco riporta anche al centro un vecchio discorso sul quale poi di volta in volta ci ci soffermiamo eh forse eh continuiamo a perdere tempo rispetto alla necessità di rivedere la visione di questo territorio la vocazione di questi territori no? Nel senso che chiaramente la chiusura di un'azienda di una fabbrica così importante e non è mai auspicabile e mai nessuno avrebbe potuto teorizzare la chiusura della Nuovo Legno in funzione di qualsiasi altro obiettivo però è anche vero che noi stiamo ancora rincorrendo quel poco di buono che ci rimane di scelte fatte ormai 30 40 anni fa e continuiamo a galleggiare però nel vuoto di un eterno presente che non si fa mai futuro nel senso che non siamo ancora ad oggi stati in grado di ripensare la vocazione di questi territori di questa provincia e forse diciamo eh questa avvertenza eh ci eh restituisce l'enormità dei nostri ritardi no? molti ritardi molti ritardi e noi abbiamo l'esempio no? abbiamo l'esempio anche per pure per dimostrare semmai ce ne sia bisogno ancora Marco anche per dimostrare questa storia dei 5 stelle che non ci stanno pregiudizi da parte nostra da parte nostra sono i giudizi sulle cazzate che fanno non c'è il pregiudizio santa miseria è questo che ci fa incazzare no? allora prendi il caso della industria italiana autobus la IIA ex irisbus i 5 stelle davvero in questa partita non hanno nessuna colpa e l'abbiamo anche scritto no? il problema vero è di chi c'era prima lì la colpa è del tutto evidente perché per ben 5 anni 5 anni la classe dirigente politica di questa provincia Marco specialmente la classe dirigente parlamentare di questa provincia ha consentito che un signor nessuno Stefano del Rosso il quale aveva pescato la fortuna no? eh? con il sottosegretario De Vincenti all'epoca quando la Fiat doveva disfarsi di quello stabilimento eh? ad ogni costo ha trovato un governo che ad ogni costo ha condentato Santa Fiat gli ha tolto la castagna dal fuoco e ha trovato così per caso per strada un signor nessuno che non aveva mai fatto l'industriale Stefano del Rosso e per ben 5 anni gli ha consentito di portare quella industria al disastro completo certamente guadagnandoci per sé giusto? i 5 stelle hanno un'altra responsabilità su questa cosa hanno la responsabilità sulla industria italiana autobus di aver illuso i lavoratori parlando di partner importanti importantissimi ferrovie dello Stato che probabilmente non poteva non voleva non sapeva cosa farsene di questo stabilimento e alla fine di aver brindato Marco questa è la grande responsabilità morale dei 5 stelle che non sanno che pesci prendere quando si trovano di fronte ad impattare no contro i problemi che brindano prima che nasca qualcosa questo è il punto e non riconoscono cioè sarebbe stato molto più semplice Marco per la IIA così come per la Lioni Grotta Minarda fare una cosa un'operazione semplicissima cari avellinesi cari ilpini abbiamo sbagliato ecco se Carlo Sibilia per dire per tornare al soggetto avesse detto con un poco poco di umiltà e ne avrebbe bisogno questo signore di umiltà perché la sua arroganza purtroppo è pari alla sua ignoranza in determinate materie e glielo stiamo dimostrando ma se lui avesse avuto un poco di umiltà se avesse detto cari signori scusateci sulla Lioni Grotta Minarda ho preso una sbandata enorme perché ero in preda ai fumi dell'alcol perché ero distratto per una ragione quasi noi l'avremmo capito ma questo che insiste anzi avremmo fatto anche un applauso perché questo significa ma questo che insiste è la stessa cosa per la IIA cercate di trovare in tempo il modo non per scusarvi ma per non illudere perché quella storia Marco la ci manca il partner industriale cioè ci manca la parte principale come vogliono fare il polo autobus senza avere il partner industriale come fanno? questo è il punto non lo hanno spiegato lo stanno cercando ma come? prima di vincere la lotteria brindate e ci confessate che ne pensi di questa cosa che è stata immaginata di come dire la tua vecchia battaglia la necessità di restituire di riprendere il possesso dei terreni ma quello non è possibile Marco quello non è possibile là ci vorrebbe un atto legislativo molto forte quindi un atto del governo, del Parlamento fate questo dovrebbero farlo perché la Fiat molti nostri telespettatori non lo ricorderanno non lo sanno forse nemmeno ma Fiat comprò i suoli dove poi è nato lo stabilimento senza utilizzare la stragrande maggioranza cioè un milione e centomila metri quadrati di suolo infrastrutturato li comprò per quattro soldi Fiat ha ceduto questi suoli a gratis a titolo gratuito al signor Stefano Del Rosso oggi invece a chi altro è subentrato sentite, poiché quei suoli comunque non sono stati mai utilizzati dalla IIA così come non sono mai stati utilizzati dalla ex Iribus e dalla ex Iveco il primo nome della fabbrica di autobus di Valle Ufita restituite almeno quei suoli cioè cercate ecco i cinque stelle dovrebbero fare una battaglia per far restituire quei suoli all'asi quantomeno l'Irpinia può disporre di un milione e centomila metri quadrati di suoli infrastrutturali Marco sono un patrimonio enorme un patrimonio enorme eh? a meno evitiamoci la beffa dopo tutti quanti i danni manco questo e che cazzo e ve lo stiamo mettendo con il cucchiaio in bocca fate questo a meno Mario ci siamo? ci siamo abbiamo finito Mario? due minuti due minuti vogliamo utilizzare questi due minuti? io prendo il caffè mentre chiaramente insomma per inerzia ci si avvicina alla campagna elettorale per le amministrative ah tra le altre cose insomma c'è anche stata una novità per rimanere al Movimento 5 Stelle diciamo dopo aver dismesso completamente la questione morale sulla questione 18 come avevamo dismesso tutto ormai previsto poi sono caduti anche altre bandiere altri vessilli che il Movimento invece aveva sempre come dire sventolato con orgoglio nel corso degli anni e quindi insomma c'è stata la questo vertice a Roma tra Di Maio, Casaleggio e Grino nel quale sostanzialmente cosa è stato deciso? via al vincolo dei due mandati a tutti i livelli istituzionali caduto un altro che io ho sempre ritenuto essere un'idiozia completa perché tu puoi essere un grande servitore dello Stato puoi anche come dire attraversare tutta la tua esistenza all'interno delle istituzioni ma farlo con onore, con competenza e non si capisce insomma dove sta questa roba cioè qual è la logica del doppio mandato ma la cosa invece veramente importante è che il Movimento 5 Stelle in qualche misura apre alle alleanze sui territori alle civiche dicono in modo camuffato aprire alle civiche significa come ho avuto modo di scrivere al netto di qualche distinguo ma questo vale per Avellino come per tutta l'Italia meridionale aprire sostanzialmente al partito del trasformismo al partito dei portatori di voti che volta in volta si posizionano e quindi si vanno allineando a tutti gli altri partiti questa condizione però è del tutto evidente cambia anche lo scenario perché oggi nel rinnovato scenario cosa impedirebbe? per esempio a Ettore Iacovacci di andare a cercare un'alleanza con il Movimento 5 Stelle visto e considerato che Ettore Iacovacci proprio nei mesi nei quali Ciampi è stato sindaco è stato di Ciampi il più stretto consigliore in qualche misura tanto per dirne una e ribadisco faccio l'esempio di Ettore Iacovacci perché contrariamente a quello che si dice io continuo a sostenere che Ettore Iacovacci è certamente molto migliore di tutti di tanti altri che invece poco compaiono nelle cronache insomma Ettore Iacovacci è uno che non ha la pretesa di essere uno statista è uno che banalmente ti dice quello che vuole fare però se ti dà la mano poi però la parola la mattina statista di noi altri esattamente il discorso qual è? contestualmente quindi si apre questo scenario per cui tanti di questi portatori di voti che sino all'altro giorno potevano solo ragionare di andarsi a posizionare su due o tre tavoli adesso hanno anche il quarto tavolo a cui guardare diciamo e quindi questo cambia tutto contestualmente qualcosa si muove anche in altri mondi e per esempio abbiamo riscontri oggettivi diciamo che parlano di un Giuseppe De Mita in grande Giuseppe De Mita l'ex onorevole l'ex deputato che proprio nella città di Averino si sta muovendo molto ricercando in ogni modo come dire di costruire relazioni coinvolgendo riferimenti della società civile eccetera eccetera però diciamo da quello che ci risulta sono molti no che sta ricevendo da questo punto di vista da questo punto di vista e questo in qualche misura segnala anche che c'è una si va sempre più verso la formalizzazione di questa divaricazione che c'è tra il mondo riferibile a Giuseppe De Mita e quindi a Ciriaco e quello che invece si ritrova attorno a Maurizio Peric il famoso Maurizio Maurizio Peracca vedremo che cosa accade a me sarebbe piaciuto parlare oggi anche un attimo del tunnel di Piazza Libertà ma non abbiamo il tempo però è una cosa che comincia a far ridere è diventata patetica cioè in questo tunnel si continuano a buttare soldi questa roba che si doveva andare a 20 km l'aria è vecchia cioè si sapeva nel senso già la venne fuori si ma qua si continua a buttare soldi nel tunnel e anziché averne benefici non certo per responsabilità della ditta appartatrice non c'è secca niente ma questa irresponsabilità di chi l'ha concepito tutta quanta questa storia si continua a buttare soldi nel tunnel altri quanti 400 milioni 400 mila euro ultimamente e il tunnel restituisce sempre meno giusto per stare a linguaggio dei cinque stelle benefici perché in quel tunnel bisognerà andarci a 20 all'ora ci saranno i cosi come si chiamano quei pupazzetti che tirano la velocità ci saranno i risuoli insomma a che serve a che serve questo cavolo di tunnel e ripeto e sottolineo non ci azzecca niente la responsabilità della ditta appartatrice in questo caso anche se quando si vengono queste gare santo il dio e si presenta un progetto esecutivo e si esegue quel progetto esecutivo e non è che possiamo accorgerci dopo quanti anni sono passati ma quanto ci costa a sto cacchio di tunnel agli Avellinesi 11 anni 11 anni dall'inizio e a distanza di 11 anni dobbiamo scoprire pure che in quel tunnel dobbiamo praticamente andarci a piedi manco più con le macchine perché con la macchina a 20 all'ora significa intasare un casino di traffico là sotto ti rendi conto? chiudetelo o meglio fate una cosa chiedete a Carlo Sibilia può darsi che vi dà qualche soluzione lui che è bravo nelle soluzioni improbabili può darsi che vi dà una soluzione o no scusa voleva fare anziché la rioni grotta minarda la tratta ferroviaria hai dimenticato il problema le macchine che si fermavano uscivano l'autostrada salivano sul freno arrivavano a conturci scendevano da terra sotto al fune che si dovrebbe fare un acquario oppure per essere più una grande galleria di arte contemporanea non se ne può più 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 una galleria permanente di arte contemporanea sarebbe una gran figata anche quella anche quella sarebbe una figata poi un argomento che non abbiamo avuto il tempo manco di andare a vedere ancora abbiamo ricevuto un paccotto non anonimo un paccotto mandatoci da un avvocato non mi ricordo come si chiama quell'avvocato una documentazione enorme ma vabbè velumino ci vuole tempo per leggere perché noi soltanto sui documenti diciamo le cose per alligata sul fallimento ercolino che non si capisce che cosa sia accaduto cosa stia accadendo insomma ci stanno delle c'è una lettera molto forte una denuncia molto forte arrivata alla procura della Repubblica però dobbiamo un attimino guardarci le carte perché noi così non parliamo giusto Marco senza guardare per bene con l'ingrandimento ma anche quella è storia cittadina per cui insomma cerchiamo di capire che cosa sta accadendo in questa città perché davvero si comincia a non capire più niente è già parecchio tempo che si capisce più niente Marco l'ultima cosa scusami ho letto da qualche parte non ricordo qual era era un giornale online non ricordo qual è ho letto che a proposito del comune dissesto pre di stesso non dissesto eccetera eccetera ho letto sto cercando di fare uno sforzo mentale per ricordarmi la testata che Vincenzo Ciampi Vincenzo Ciampi sarebbe o dovrebbe essere il candidato il ricandidato naturale del Movimento 5 Stelle del Movimento 5 Stelle alla carica di sindaco soprattutto perché soprattutto perché lui si era battuto per il dissesto e poiché alcuni ben informati devono avere già capito o saputo che il commissario Priolo vogliamo augurarci che non sia così per il commissario Priolo abbia già deciso per il dissesto probabilmente senza rendersi conto un po' tutti che cosa andrebbe incontro questa città che Ciampi sarebbe il candidato naturale proprio perché si era battuto signori ricordiamoci che Ciampi non si è battuto per un cavolo per il dissesto affermando che non c'erano le condizioni per il dissesto diciamolo Ciampi aveva detto aveva tentato la carta della la posso chiamare estorsione politica estorsione politica significa ti do e tu mi dai oppure io ti impongo di fare questo perché tu mi dia lui voleva voleva barattare voleva barattare il dissesto quindi non avrebbe concesso fatto il dissesto se alcune liste civiche dopo il ballottaggio avessero dato a lui il consenso per la maggioranza cioè se avessero consentito a fargli fare il comodaccio dei 5 stelle per quello che volevano fare è arrivato al comune di Avellino affermando che avrebbe individuato nell'assessore Forgione un superassessore perché Forgione studiava i bilanci da anni e quindi era assolutamente poi è arrivato commissariato l'assessore perché evidentemente non sapeva che pesci prende dopo di che ha affermato prima che non c'erano le condizioni per il dissesto poi ha cominciato a dire che forse c'erano le condizioni per il predissesto poi dopo aver tentato in tutti i modi di cercare una sintesi con in consiglio comunale per trovare i numeri che non aveva proprio provando a forzare io elimino diciamo il dissesto come ipotesi la levo dal tavolo la misura in cui voi mi darete i numeri in maniera esatto diciamo sufficiente per potermi garantire almeno di governare per i prossimi due anni fino alle regionali questa condizione non si è determinata all'improvviso una buona mattina ci abbiamo andato in giunta e ha firmato la delitto ma il problema non è più Ciampi oggi non è colpa sua se altri danno questa non interpretazione perché i fatti bisogna interpretarli però quando si stravolge la cronaca e quando la cronaca viene stravolta dai giornalisti oh cavolo qualcosa non funziona Marco vogliamo salutare i nostri amici a domenica prossima ciao Mario ciao 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 ciao